salve a tutti ragazzi io sono motionless prima di iniziare questo video vedete tutto nero tutto buio ho un annuncio da fare una cosa ci tengo un nuovo inizio per me ho voluto incimentarmi in questa nuova realtà volevo provarci e quindi oggi sono qui a presentarvi oltre il gioco nuovo di yukioh il mio nuovo avatar sono diventato da oggi in poi un vtuber almeno finché durerà finché non mi stancherò può essere che mi stancherò di questa cosa può essere che non mi darà indietro quello che cerco come tra altre cose in passato mi hanno deluso e niente questo video è su yukioh cross new e nuovo gioco uscito stamattina e solo che quando carico questo video sarà ieri perché si ho avuto altre cose da fare tra live sulla piattaforma viola e cose varie e quindi non ho potuto meditare tutto il resto quindi andiamo con la presentazione di avatar e gioco buona visione ed eccoci qua ragazzi nella nuova fermata la nuova grafica un po' aranciata per il video ed eccomi qui io sono questo leone antropomorfo non sono bravo non sono capace non ho un diploma un'attesa stato in grafica e quindi per ora il leone è diventato umano e quindi questo è il simbolo del mio simbolo che si presenta a voi in questa forma adesso due parole sul gioco questo gioco di yukioh non deve essere preso seriamente perché comunque sono sicuro che molti troppi ci andranno pesanti contro queste novità questi giochi di yukioh spin off che appunto sono spin off non c'entrano con la la serie principale in un certo senso il combattimento lo stile di gioco non c'entra nulla come siamo abituati a giocare è un gioco che si basa sui duelli 1v1v1v1 sono 4 giocatori che si sfidano e a quanto pare c'è uno che vince ma in teoria 3 vincono perché c'è un podio 1 2 3 il quarto quello che viene eliminato perde gli altri si portano a casa a un tot di punti base alla loro posizione di life points adesso quanto aprirò tanto andremo a vedere il gioco verrà spiegato meglio e quindi è un gioco da penale leggera sia competitivo e tutto il resto ma non è il gioco che conosciamo noi è uno stravolgimento delle regole il fatto che non ci sia una serie apposta e sia una cosa a parte anche meglio non doveste flammarlo perché non è il vero gioco e così varie e prendetelo come un minigioco una cosa for fun da fare separata ai duelli normali ok andiamo a vedere un po il gioco io ho fatto una partita dopo il tutorial stamattina giusto vedere un po e sapere cosa dirvi il gioco è sempre nel mondo di setokai ma di due links sempre quella la trama quello scenario e noi abbiamo qua incontri classificati modalità incontra 4 andiamo subito a fare un gacha perché no e poi andiamo a fare la partita facciamo un gacha carte con le gemme che ci danno possiamo permetterci di fare il gacha per 10 del release della celebrazione del rilascio del gioco quindi andiamo a fare questi 10 e andiamo a vedere un po com'è l'animazione delle evocazioni qua del summon abbiamo queste due che non ho capito bene perché mi escono sempre queste carte normali e poi quello al centro che dobbiamo riuscire a fermarla ovviamente sull'ultra rara l'arcobaleno ci si prova nooo e niente è andata poi potete notare dalle carte soprattutto quelle con effetto ah voilà e sto coso sto procione o il mago e cosa si chiama? arcfire o comunque quello dei pendolo non hanno effetto in questo gioco le carte le carte non hanno gli effetti ma hanno le abilità sono tutte carte normali tutte gli effetti spariti perché non riescono ad adattarsi al metodo di gioco di questo di questo duelli e quindi le carte sono stravolte tutte le carte le carte mostro sono normali abbiamo neos come ultra rara e poi l'arci demone drago rosso all'inizio del gioco vi faranno scegliere una tra le ultra rare che sono le carte dei sostanzialmente sono le carte dei protagonisti più quella dell'antagonista c'è caiba con il drago bianco qua in questo caso c'è jack atlas e poi ci sono mago nero neos utopia drago proprio di stelle drago chi diversi e queste sono le abilità da sbloccare per sbloccare le abilità noi dovremmo andare a andare alle carte dei degli oggetti particolari che si prendono giocando adesso qua per andare a potenziare appunto e prendere l'abilità personalizzazione mostri credo che era su personalizzazione mostri prendo l'arci demone qua abbiamo l'albero della vita adesso è una carta normale se io voglio sbloccare questa abilità che dà 200 d'attacco il nostro drago al momento della vocazione mi bastano 4 di questi qui faccio sblocca e la mia carta avrà come abilità questa e diventa una carta con effetto poi qua ci sono altri 200 qua ci sono 200 in difesa possiamo andare a sbloccare intimidazione in battaglia quando attacchi un mostro eeeh col mouse è un po' difficile se ti raggio da computer attacchi un mostro la persona in posizione di attacco metti in posizione di difesa per ora lasciamo il nostro drago così voglio equipaggiarla la facciamo la modifica deck deck di prova andiamo sul nostro arcidemone eeeh arcidemone da grosso ed ecco mettendo l'abilità diventa una carta con effetto tipo drago effetto bene e adesso salviamo il deck ci sono varia beta poi ci sono questi mostri chiamati eeeh non mi ricordo più oddio miglior eccolo qua i mostri migliori ci sono questi mostri migliori che sarebbero in sostanza oltre a quelli dei protagonisti mostri quelli che hanno l'animazione di tutte figa quando vengono evocati tutte bellissime cose strane qua noi per adesso abbiamo l'arcidemone neos e c'era anche questo il drago multicolpo drageus ma sostanzialmente è questo quindi possiamo andare a fare un incontro classificato abbiamo il deck di prova in cui abbiamo l'arcidemone e neos come i mostri principali top fortissimi qua ci chiede se vogliamo usare i nostri coupon ci daranno il doppio dei punti in angolo per salire nelle classifiche dice che verranno ripestinati ogni giorno alle 7 di mattina fino al massimo di 3 biglietti noi andiamo a usarlo e iniziamo il duello speriamo di fare un debut fail adesso che sto registrando il video perché stamattina sono arrivato secondo non so nemmeno io come è difficile nonostante sia nonostante sempre una stupidaggine è molto difficile se poi gli avversari si mettono d'accordo ad attaccare solo te puoi salutare proprio perché il problema sta nel fatto di avere carte in mano non ne ho mai essendo che in particolare come duello tu puoi mettere molti mosti a terra e è tipo il rush duel di sevens nel la struttura perché abbiamo tre slot di carte come su due links possiamo mettere la carta trappola e adesso vi farò vedere se io metto il drago rete dai drago rete di qua poi metto il mago doppia iride posso evocare ho già fatto due evocazioni al mio turno e posso in più evocare l'arcidemone drago rosso ovviamente offrendo come tributo i miei due mostri ma al momento io mi faremo così all'inizio del duello all'inizio c'è al centro una carta bonus che si prende il giocatore che riesce ad arrivare e vincere il duello al centro della mappa sono dicendo al centro qua lo scontro al centro essendo in quattro lo scontro al centro come funziona si affrontano i due opposti quelli che stanno davanti uno contro l'altro chi vince dei due va contro quello che ha vinto degli altri due uno di fianco all'altro qua c'è un blocco attacco da parte di blue angels sul mio dracco rette che saremmo andato ad attaccare lei direttamente non avendo copertura poi nel caso potremmo attivare se voglio vedere la mia carta mi metto in difesa il mio allora qua è molto brutta la situazione questi levi voglio vedere le mie carte la mia carta porca vacca e come faccio a vedere la mia carta sul terreno se non riesco a cliccarla iniziamo bene sto dicendo all'inizio è un po' complicato questi deck perchè hanno tutti blocco attacco e blocco difesa su questo gioco all'inizio e quindi continuano qua si sono ammazzati a vicenda la carta bonus la blue angel che ci ha bloccato tutto tra lei e nico ci hanno bloccati proprio noi abbiamo bellissimi tutti e tre i mostri stupendi la cosa bella di questo gioco sono le animazioni ci sono le animazioni 3d che normalmente non ci sono allora io evoco l'archi demone e drago rosso mi tolgo loro due e poi vado a mettere avian di qua perchè tanto quello sta al centro e a me non fa nulla potrei di nuovo fare però non voglio dare via l'archi l'archi demone quindi andiamo così vediamo un po' cosa succede vediamo l'animazione dell'archi demone drago rosso abbiamo all'inizio dopo il tutorial ci danno come compagno caiba quindi abbiamo caiba qua di fianco a noi e quando la evocchiamo c'è lui che fa l'animazione fisca si attiva l'abilità di mantenere l'attacco e come funzionano i duelli faccia a faccia tra mostri in questo gioco in questa modalità i mostri intanto qua non riesco neanche a cliccarla facciamo fatto si affrontano e vanno a fare somma sottrazione vanno a perdere la differenza cioè non lo distrugge e basta ma lo distrugge però perdendo l'attacco gli va a sottrare l'attacco adesso qua questa si va bene bounty rush non ci interessa lei va a farci danno con la carta trappola c'ha tutte per counterare gli attacchi questa e adesso il nostro archidemone si ritrova con 200 d'attacco 500 d'attacco davanti a lui siamo terzi e sono solo 8 turni massimi nel caso nessuno venisse sconfitto adesso qua noi visto che lei ci da continua a dare fastidio mentre nico poverino non ci sta facendo nulla andiamo a ce l'abbiamo con lei potremmo andare a mettere un altro mostro perché tanto mailar ci deve 500 d'attacco quindi andrei a metterlo qua vediamo un po' cosa succede nico tripla summon uno in difesa il gatto e lei gioca il suo mostro migliore così si chiamano è un trucca stella ma una carta link quindi ci sono le carte link che non hanno l'effetto link quindi si possono usare come vogliono ottimo a sapersi con l'abilità che ogni volta fa un danno a tutti ciao che sei visto l'altra cosa che avete notato i life points come funzionano che se quando uno riceve l'attacco va a perdere i suoi e va a guadagnarli l'avversario l'avversario che ti attacca va a guadagnare il numero di life points che ti toglie per vedere un po' come si difende nameless e nico qua perché adesso arriva il trucca stella lì lui chiama i rinforzi abbiamo un guardiano celtico qua che fa un 2000 d'attacco pericolosissimo noi non abbiamo difese viene distrutto da trucca stella va alla grande adesso noi andiamo a fargli 2500 Blue Angel no perché il nostro non attacca cos'è causato per non essere attaccata carta magia magia legittima il mostro perderà 800 d'attacco noi non possiamo fare nulla andiamo ok ce la teniamo per vedere la mossa di Blue Angel se Blue Angel mette un mostro che può battere il nostro Draghias allora andremo a usare magia legittima magia legittima potremmo usarla anche per favorire un nostro avversario nei confronti di un altro è un po' si può fare teaming con le carte magia trappola mettere in una brutta situazione un duellante invece di un altro fa venire un altro che poi magari poi ti fa fuori ne frega del tuo favore si tradisce si tradisce adesso vediamo un nevian da parte di nico sempre nella lane chiamiamola lane della signora Blue Angel abbiamo un Drago bianco chi blu e qua ci ha messo uno di 2000 di difesa quindi andremo a perdere 2000 magia legittima non ci serve contro di lui e contro contro il Drago bianco di cosa va benissimo invece attiviamo vai ce l'abbiamo fatto in tempo vai perdi attacco così va a ridursi ancora di più in questo momento ci interessa attaccare Blue Angel Nameless può anche vincere per cosa ci riguarda perché ci ha fatto torto Blue Angel e Blue Angel attacchiamo trovare tutti e tre i mostri più forti da 2 di tributo non è stato bello un altro mostro che mi va a 5 centri d'attacco il suo Drago bianco sta messo male quindi adesso questa la mettiamo dietro al nostro Draghias sempre su Blue Angel vai adesso che abbiamo fatto magari un torto a Niko Niko potrebbe vendicarsi mandandoci uno centralmente ricordiamoci che c'è il mago di Nameless che è sparito perché è sparito ha fatto un tributo Nameless mette il mago nero mette il mago nero davanti al Drago bianco di Niko vediamo come risponde Niko eccolo il mostro nella lane centrale mostra che ci aspettavamo allora io voglio vedere le mie carte sul terreno 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 ah posso ruotare così no mi torno indietro e no perché me l'hai messa in difesa mamma mia il fastidio io non riesco a fare un attacco io non riesco a fare un attacco e a parte non riesco neanche a vedere la mia trappola qua perché anche se giro così niente qualcuno mi dica come poter vedere la mia trappola io non riesco a usarla 500 500 di danno e andiamo a recuperare 500 life points nice bam il mago nero c'ha il l'artista amico ipo ipopotamo davanti il mago nero e andiamo a attaccare blue angel che si ritrova da seconda scivolone ultima nico passa davanti a me uh guarda qui che c'è zubabà zubabà si può mettere oh porca vacca capito che sto facendo il mirroring del mio telefono però funzioniamo decentemente niente ria potevo andare a evocare neos offrendo come tributo draghas e quella che ha dietro ma andiamo a difenderci però del caviore celtico celtico andiamo a vedere un po' come va cosa farai io cosa farò se mi fai vedere il terreno e via viene distrutto attacchiamo la blue angel attacchiamo e si avanza ci difendiamo al centro bene su babà 400 attacco avanza c'è un assedio su blue angel abbiamo anche nico che perde life points chissà chi dei due cadrà prima se riusciranno a cadere in tempo per la partita per la fine della partita blocca difesa finalmente e adesso io metterei neos centrale offrendo questi due in tributo più burst in atrix di qua e ci teniamo il blocco a difesa il blocco a difesa ce lo teniamo quest'altra oh sono riuscito a desoommare ok perfetto qual'uno ha detto che siamo in posizione di difesa al fronto all'anniversario ok bene 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 da cellulare sono riuscito a desoommare con il pinch dello schermo ok è andato a mettere uno in posizione di difesa non no in attacco scherzavo ho visto la difesa mentale pensavo in difesa qual'è l'unicorno da parte di blue angel che si sta difendendo da nico ma arriverà nell'attacco della mia che gli fa 1200 quindi rimane con 800 blue angel in questo turno mi sono partita finita blocco difesa c'è qualcuna difesa si lì c'è questo vai gioco la mia carta mettiti in attacco e basta abbiamo fastidio lì abbiamo un po' di fastidio la fine è molto tattico molto strategico forse addirittura più della della degli incontri normali dello standard e via l'attacco del mago nero 100 e lei me la sova a 6600 ok buco trappola sul neos da suonimento abilità da suonimento abilità cosa sta succedendo il buco trappola che cavolo fa adesso scusa in sto gioco 1200 800 vado a 5000 nice che cavolo fa il buco trappola si levi voglio vedere ultimo turno i mostri dell'avversario tengono immobile non si può muovere neos da lì neos non si può muovere non può andare ad attaccare nico però lei può perdere benissimo lei può perdere benissimo blue angel signora lei può perdere benissimo anche se il mio neos non si può muovere abbiamo un altro mostro linea centrale diretto ad attaccare blue angel blue angel mette difesa da me e da nico due trucca stelle questa c'ha la notizia trucca stelle con dentro il castello in teoria non dovrebbero esserci bot classificate a parte quello del tutorial però già ho trovato i miei yugi ma il blue angel vorrei che qualche bot lo mettono negli incontri anche perchè gioca bene più o meno all'inizio usava spaccato ma era molto fastidioso vada in attacco vada in attacco rinforzi andiamo a vedere cosa riusciamo a fare se riusciamo a superare di life points naveless perchè noi adesso andiamo ad attaccarlo direttamente e c'è il mio neos che blocca il suo che era diretto da blue angel e era bloccato è stato pure distrutto perchè si era ridotto l'attacco il 900 blue angel ha guadagnato life points e non ha attaccato il nostro mago perchè non era doveva un altro turno per muoversi e andare ad attaccare è rimasto fermo lì e quindi non siamo potuti andare a vincere tra virgolette perchè con 1.200 no 6.000 si però andavamo a ridurre i suoi quindi avremmo vinto un turno in più perchè quel mirastelle o quel che è non mi ricordo bene story l'avrebbe fatto scendere a 5.400 e noi saremmo saliti a 6.200 va bene così un secondo posto non ci hanno dato tanti in fastidi in parte nella prima fase il coupon per avere punti in più premi i cumulativi otteniamo i premi 50 gem nice qua ci sono le scatolette premi per la battaglia bam scatoletta di bronzo e 3 gem ok la fiducia insetto saiba c'è una sorta di affinità in questo gioco giocando con quel personaggio che io non ho capito come andare a cambiare il compagno perchè il deck l'abbiamo modificato è un po' lento nel caricamento questo cos'è amici sarà si possono anche bloccare i giocatori si possono anche bloccare i giocatori eeeh qua c'è seto per forza qui clicchiamo su seto kaiba yami yuki livello 2 visto? yami yuki salve signor yami yuki questo tanta roba eh solo che non se ne va è rimasto fermo bloccato eeeh yami yuki non se ne vuole andare se ne vai ahhh che bella sorpresa ah no questo problema che ho visto invece di sfidare cedole ma potevamo fare squadra vorrei davvero fare squadra con te ho visto che c'è questo problema nei testi che a certe volte sono lentissimi eeeh c'era seto kaiba e mi parlava a monosillabi ahhh lettera per lettera ho cliccato per velocizzare per uscire tutta la scritta è andato tranquillo qua yami yuki non si muoveva a parlare abbiamo jayden c'è chaz bloccato da quel che ho visto la silhouette speriamo jayden sia più veloce a parlare guarda 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 quanto sono lenti io dovrei chiudere il video il signor jayden gli altri me li sblocco per conto mio facciamo così ecco finalmente ho parlato bene anche jayden si è unito alla nostra squadra possiamo usarlo come compagno eeeh niente ragazzi per questo video iniziale su yuki ho cross duel è tutto il video vi è piaciuto lasciate un like commentate iscrivetevi condividete con tutti i vostri amici attivate la campanella per avere sempre le notifiche sapere quando escono i nuovi video e noi ci vediamo la prossima volta ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti